Salve gente! Se siete autori autopubblicati o emergenti, questa parolaccia orribile che ci continuano da pioppare, sapete già qualcosa sulla pirateria degli ebook in Italia, ma in generale nel mondo. Probabilmente nel contesto americano è ancora più popolare che da noi, ma anche da noi esiste. Esistono proprio siti appositi dove qualsiasi ebook che viene caricato su Amazon viene piratato, veramente qualsiasi, anche quelli più sconosciuti, la gente si autopubblica e poi li trova lì, è capitato spesso di sentirlo, oppure gruppi, gruppi di Telegram, gruppi in generale su Whatsapp, cioè persone che si scambiano questi file come fosse, non lo so, della roba inquietante. Dunque oggi vorrei parlare un po' di pirateria. Secondo me per capire questo fenomeno dobbiamo contestualizzarlo, cioè dobbiamo capire da dove arriva, com'è nato e perché la gente continua a piratare la roba senza sentirsi in colpa e senza preoccuparsi. Chi è nato negli anni 80 come me, io sono dell'84, ha visto un po' la nascita di internet. Cioè in realtà è nato prima, credo, ma nelle nostre case non c'era. Quando io ero bambina non era normale avere internet. E anche quando ero adolescente c'era proprio il modem che si collegava al telefono, con la bolletta, cose, che a pensarci adesso, mamma mia. Dunque chi ha più o meno la mia età sa come era internet prima, all'inizio in Italia. Come sempre vi dico, vi parlo dell'Italia perché è qui che sono, ecco. E io in particolare ho usato internet fin da piccolina, cioè da quando c'era, da quando si poteva. E quindi ho visto proprio l'evoluzione della rete fin dall'inizio. E vi assicuro, in caso non lo sappiate, che all'inizio era tutto molto diverso. Era tutto anonimo innanzitutto, cioè l'idea di dare il nome e il cognome reale, mamma, mamma, manco per sbaglio, di mettere una foto della tua faccia, oddio. Quindi ci sentivamo tutti un po' protetti da questo essere anonimi, per cui quello che facevi su internet non c'entrava niente con la vita reale. E quando hanno iniziato ad esserci dei contenuti digitali di qualsiasi tipo, per esempio, che lo so, penso ai film, la musica, i videogame, il software, tutti questi contenuti all'epoca, noi, e mi ci metto anch'io perché c'ero anch'io, abbiamo iniziato a percepirli come gratuiti. Cioè la musica, c'era Napster, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, c'erano anche altre cose prima, ma io ho iniziato con Napster. Tu andavi lì, scaricavi la canzone, la canzone era tua, era in formato mp3, la potevi schiaffare dove volevi, te la portavi dietro, cioè non avevi pagato nulla, e tu non percepivi in alcun modo di star facendo qualcosa di male. Oppure i videogame, io ho sempre giocato moltissimo con i videogame, e chiaramente erano una spesa abbastanza alta per un adolescente, ma erano lì, erano gratis, li potevi scaricare, chi se ne frega. Questo, a parte il fatto che ancora prima di questo c'erano proprio i negozi di videogame, che ti facevano i cd masterizzati, illegali, ma vabbè, lasciamo perdere. E in generale, tutto veniva percepito come gratuito, di ingresso libero, ad ingresso libero, insomma, e nessuno di noi si faceva una domanda in realtà. Era così e basta. Proprio perché, e questo vorrei farvi capire, il mondo della rete veniva sempre percepito come una realtà parallela, che non c'entrava nulla con la vita reale. Cioè, io non avrei mai rubato un cd da un negozio. Non so se vi ricordate anche lo spot, insomma, la campagna di sensibilizzazione, non scaricheresti una macchina che c'era prima di alcuni film. Cioè, io non avrei mai rubato nulla, non ho mai rubato nulla nella mia vita, però il fatto di rubare un mp3 non mi sembrava grave. E chiunque di noi, cioè chiunque nella mia generazione, ha scaricato qualcosa nella sua vita senza pagarlo. Chiunque, ragazzi, non mentite. Mi ricordo anche dei discorsi particolari. Per esempio, quando ero proprio piccolina, potevo avere 15-16 anni, c'era la moda di creare le doll in pixel art. Cioè, delle bamboline, delle figurine carine, tutte carucci, con dei colori molto saturati, molto accesi. E c'era un sacco di gente che si metteva a farle. Alcuni erano veramente bravi. La pixel art era una figata. E quindi trovavi un sacco di siti dove la gente metteva tutte le sue creazioni per farle vedere, sostanzialmente. E però tu potevi salvartele sul PC. Per poi magari utilizzarle come avatar su un forum, nella firma. C'era un sacco di roba. Cioè, potevi metterle anche sul tuo sito per decorarlo. E tutto questo rubando, no? Queste immagini, sostanzialmente, che non avevi creato tu senza magari nemmeno preoccuparti di citare la fonte. Cioè, di dire questa dollina l'ha fatta la tizia X. Le persone che creavano queste immagini si arrabbiavano per questo. Però era talmente normale farlo che lo facevano tutti quanti. Ecco, secondo me questo è un esempio perfetto. Perché io mi ricordo questi drama allucinanti sul fatto di rubarsi le dolline a vicenda e di come io la vedessi in quel momento. Cioè, il mio pensiero sincero era vabbè, ma tu l'hai fatta e l'hai messa su internet. Quindi adesso appartiene a tutti. Appartiene alla rete. Non è tua. È nostra. E quindi io se la voglio usare, la prendo e la uso. Tu non me lo puoi impedire in nessun modo. Era un po' questo il modo di guardare internet, no? Io ho notato adesso, nelle persone che hanno meno di 20 anni oggi, un atteggiamento molto diverso. Perché loro sono già cresciuti in un mondo differente, anche se la differenza di età non è tanta. E ancor più le persone ancora più giovani. Perché internet oggi è un'altra cosa. Siamo tutti lì con nome e cognome, fotografie, reperibilità. Insomma, è molto diverso. Quindi adesso gli atti che compiamo in rete sono atti più di responsabilità. Nel senso che se tu sul tuo account di Facebook con nome e cognome, che devono essere veri, se non Facebook te lo chiude, poi lo so, non è sempre così, però teoricamente dovrebbe essere così. e posti una fotografia che non hai fatto tu e non hai i diritti per farlo, teoricamente il proprietario può farti cancellare il post. Quindi comunque è diverso il funzionamento. Non so se mi spiego. Ripeto, lo so che in teoria queste cose le fanno ancora abbondantemente, però in teoria potrebbero avere problemi. Mentre se io quando avevo 15 anni rubavo la dollina dal sito di una e poi lei andava alla polizia postale a lamentarsi, le ridevano in faccia. Insomma, non so se avete capito. Tutto ciò vale anche per la pirateria appunto di prodotti commerciali, per esempio i videogame. Anche oggi si fa abbondantemente, ripeto, non è che sia finita, nonostante tutti i tentativi di combatterla, in realtà c'è ancora e come. Però se a 15 anni, sia perché sono cresciuta, insomma, sono maturata, ma anche perché appunto è cambiato tutto intorno, se a 15 anni non mi sentivo per nulla in colpa a farlo, oggi, specialmente se si tratta di giochi, di produzioni indie, per cui sono due persone che ci hanno lavorato per 10 anni su quel gioco e magari quel gioco mi piace molto, è il senso di colpa, se non lo pago c'è. Quindi poi, tra l'altro, i prezzi sono molto bassi, quindi non si tratta di 70 euro, si tratta di 10 euro. Comunque, mentre quando ero piccolina io, il mondo dei libri era un po' escluso da tutto ciò, perché comunque, al di là delle fotocopie dei libri universitari, se vogliamo, ma in generale non c'erano gli ebook, quindi non potevi scaricare un libro, così come non potevi scaricare una macchina, insomma. Oggi invece abbiamo spesso le copie digitali dei libri, famosi o meno, in tutte le lingue, e c'è una oggettiva comodità nel fatto di averli lì istantaneamente quando vogliamo noi, come vogliamo noi, e per giunta, se li piratiamo, gratis. Questa pretesa di possedere questi contenuti, cioè di dire, non lo so, e ripeto, non vale solo per i libri, oggi voglio giocare a The Sims, schiocco le dita e ce l'ho sul PC, non ho pagato nulla, non ho dovuto fare nulla, e lì. Oggi voglio leggere Proust, schiocco le dita e ce l'ho sull'e-reader, e chi se ne frega. Oggi voglio ascoltare, non lo so, l'album di Marco Masini, non so perché dovrei, ma va bene, schiocco le dita e ce l'ho lì. Ecco, questo atteggiamento, ripeto, è classico della mia generazione, che è stata abituata così, fin dall'inizio. Oggi non è più così, sia perché, appunto, la mentalità è cambiata, sia perché sta nascendo un tentativo concreto, secondo me, di evitare questa dinamica con lo streaming. Netflix, Spotify, Steam, per i videogame, insomma, queste piattaforme che con un abbonamento mensile, Steam no, però vabbè, ti permettono di accedere a tutti i contenuti per darti, appunto, l'illusione di avere quella libertà, però pagando, che è giusto. Per esempio, da quando c'è Netflix, io pago Netflix e non scarico più niente, e non è tutto lì, c'ho anche Amazon Prime, ce ne sono tanti, ma è più comodo, è più facile accedere a quello piuttosto che mettersi a cercare per sei ore un torrent che ti fa... Cioè, è più comodo, effettivamente, quindi ci hanno un po' fregati per la nostra pigrizia. I millennial sono pigri e quindi se li fai pagare ma dai effettivamente una comodità, noi paghiamo pur di avere la comodità. Quindi, ripeto, non vi faccio questo discorso, cioè questa premessa, la faccio proprio per dire, non faccio questo discorso partendo da un intento moralista, cioè dal dirvi haha, cattivoni, non si fa, siete brutti. No, anch'io ho scaricato roba così e non libri, ripeto, perché non c'erano gli ebook, quindi... E non credo di aver mai scaricato un ebook illegalmente in realtà, perché, non lo so, preferisco sempre i cartacei da un po', quindi non è proprio roba per me. Non voglio fare un discorso morale, ma un discorso utilitarista, perché, appunto, ripeto, secondo me i millennial hanno bisogno della comodità e dell'utilità delle cose più che la morale, perché siamo un disastro. Mentre la nuova generazione che c'è già dopo di noi è un po' più morale, cioè dà un po' più importanza all'aspetto morale, io parlo a voi che avete la mia età e vi dico, allora ragazzi, il problema qual è? Arriviamo al punto. Se io per risparmiare un euro e 99, perché diciamolo che di solito il prezzo è quello, sul libro di un autopubblicato che magari non lo conosce nessuno, lo conosco solo io, lo scarico illegalmente e magari poi lo distribuisco ad altri, sto facendo un danno prima di tutto a me stesso. Perché se quel libro mi piace, se quell'autore mi convince, se voglio leggere altro di suo, i soldi glieli devo dare. Non è, ripeto, una questione morale ma nemmeno legale perché non vi beccheranno mai specialmente se appunto scaricate cose che nessuno conosce. È molto difficile che accada veramente qualcosa però comunque non ne vale la pena. Non stiamo parlando di Photoshop che voglio dire costa tanto e uno dice vabbè non c'ho i soldi tra la la stiamo parlando veramente di pochi spicciolini che spegniamo ogni giorno per prendere il caffè al bar e quindi siamo veramente non lo so dei mendicanti e non credo che se voi siete qui a guardare il mio video su YouTube non abbiate due euro da spendere una volta al mese insomma la bolletta come la pagate porca miseria. Oggi gli autori tutti gli autori di tutti i campi in tutti i settori sono in seria difficoltà. Da un lato proprio per questa diffusione libera dei contenuti che ha creato un guadagno pari a zero per tutte le persone che creano cose e dall'altro perché nessuno li considera cioè nessuno pensa che debbono avere una retribuzione e questo è un altro discorso che magari faremo un'altra volta quindi quello che vi dico dal profondo del mio cuore ed è quello che faccio io ed è il motivo per cui io lo faccio è cerchiamo di retribuire gli artisti che amiamo. Certo voi potete ancora scaricare un album musicale senza pagare nulla e fregandovene alla grande e poi godervi per sempre quegli mp3 come vi pare però chi ha fatto quelle cose chi ha creato quella musica che vi piace tanto che vi fa sognare non merita qualche urino cioè davvero pure gli mp3 costano poco ok so già che qualcuno mi dirà eh però se compri un cd costa tanto se invece cioè bla 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 ragazzi c'è spotify io ho spotify premium premium e ascolto tutto quello che mi pare a volte li posso ascoltare anche su youtube gratis le cose volendo però il fatto di dare un contributo economico a un artista che ci ha colpito che vale la pena supportare è davvero importante ma per noi nel senso che altrimenti quell'artista non creerà più nulla e noi non avremo più quelle cose che ci piacciono anche per quanto riguarda gli autopubblicati sì lo so che qualcuno dice eh però io non lo so magari la qualità non è un granché magari poi fa schifo quindi è meglio se non lo pago ma ci sono le anteprime su amazon c'è di tutto se volete quindi diciamo che tutte queste sono delle scuse perché siamo dei mendicanti del cavolo non lasciamo perdere le scuse ripeto sto cercando di non farne un discorso morale quindi siate onesti anche voi è solo perché è una soddisfazione cioè il fatto di poter accedere a quel contenuto subito e gratis è una piccola soddisfazione ma in realtà è controproducente questo vi voglio dire quindi se proprio dovete scaricare illegalmente qualcosa quanto meno quando vi piace quando vi colpisce veramente poi andatelo a comprare cioè fate qualcosa per quell'autore perché vi ha dato lui quella cosa che vi piace tanto se lo merita impariamo a non dare per scontata l'arte e la creatività che senza supporto muore per forza e non perché gli artisti siano cacciatori di fortuna e vogliono essere ricchi ragazzi però hanno diritto a venire pagati per quello che fanno e questo non ce lo possiamo dimenticare dunque la generazione dei millennial ha ancora tempo siamo ancora giovani ce lo possiamo fare per redimersi da questo punto di vista facciamolo tutti insieme e se volete oggi anche voi andate a pagare per una cosa che avete scaricato specialmente se è una piccola produzione indipendente e date qualcosa all'autore che vi ha dato tanto colgo questa occasione per ringraziare chi mi ha dato dei contributi con Ko-fi trovate il link in descrizione io sono rimasta abbastanza sorpresa perché l'avevo messo lì tanto per ma grazie infinite ragazzi anche questo significa tanto per me e non è perché mi arricchisce sono veramente pochi eurini cioè non mi cambia nulla però il fatto davvero di poter prendere un caffè con il ricavato dei miei video è qualcosa che mi incoraggia a farne ancora quindi capite qual è il punto si può fare in altro modo si può commentare si può condividere il video ci si iscrive cioè come vi pare però andate a fare qualcosa adesso per un autore che vi ha dato tanto se non lo facciamo gli autori scompaiono quindi coraggio andate a farlo perché non voglio che scompaiano bene grazie per avermi guardato ci si vede al prossimo video mi raccomando vi tengo d'occhio ciao ciao